Consuelo Di Martino è stata confermata nei giorni scorsi alla carica di primo cittadino di Palombaro quindi per i prossimi 5 anni sarà di nuovo lei il sindaco di questo paese con grande soddisfazione ovviamente da parte sua e degli eletti della sua lista. Ma lei se lo aspettava questo successo sindaco? Allora grazie innanzitutto a Bruzzo Web TV per l'attenzione che riserva sempre nei confronti di questa amministrazione comunale. Non è infatti la prima volta che mi trovo ad essere intervistata da questa emittente e sì devo dire che me l'aspettavo questo successo anche in questa giornata elettorale perché alla fine l'impegno e l'onestà premiano sempre e comunque anche in tempi così difficili per amministrare in tempi in cui le risorse sono sempre più limitate e ovviamente gli impegni per un'amministrazione sono sempre più numerosi. Comunque devo dire che mi sono molto contenta di questa nuova squadra che ho perché è una squadra composta da amici con i quali abbiamo già condiviso la precedente amministrazione e che quindi porteranno la loro esperienza e il loro bagaglio culturale per tutto quanto hanno imparato nella precedente esperienza amministrativa e dall'altro lato invece abbiamo dei ragazzi giovani molto motivati, molto carichi e che sono pronti quindi ad offrire il loro entusiasmo e quindi affrontare insieme questa nuova esperienza. Sono ragazzi infatti laureati e laureandi in diverse discipline andiamo dall'ingegnere ambientale al laureato in economia e commercio alla laureata in cinese e inglese, al laureando in legge e laureando in farmacia, studente in farmacia. Quindi abbiamo diverse specificità, diverse conoscenze di ambiti molto diversi tra di loro e che quindi saranno veramente preziose per portare avanti questa nuova esperienza amministrativa tutti insieme. Avendo avuto a disposizione cinque anni i progetti sono nati, realizzati in parte però c'è bisogno, la burocrazia ce lo insegna, di altro tempo per portare a compimento tutto quello che si è pensato in passato e anche le novità che sono evidentemente presenti nel nuovo programma, giusto? Giustissimo, tanto abbiamo fatto nella precedente amministrazione, tanti progetti presentati, tanti progetti ideati alcuni dei quali sono stati già realizzati, come ad esempio il nostro cavallo di battaglia e proprio l'investimento nel fotovoltaico che ci sta aiutando con delle entrate per le casse comunali veramente importanti che ci hanno permesso di non inasprire la tassazione nei confronti dei nostri concittadini e altri progetti sono stati presentati, per alcuni dei quali proprio in questi giorni abbiamo ricevuto comunicazione delle graduatorie finali di approvazione della Regione Abruzzo e quindi una priorità di questa amministrazione comunale sarà quella di seguire ed attenzionare in modo particolare questi progetti ancora in fase di, come dire, di vaglio da parte degli organi che sono deputati all'erogazione dei relativi finanziamenti noi abbiamo scelto ovviamente, questo l'abbiamo fatto nella precedente amministrazione abbiamo voluto scegliere soltanto quelle forme di finanziamento che non prevedono con partecipazione da parte del Comune di Palombaro e che quindi sia uno totale carico dell'ente che emette il finanziamento questo perché da un lato è stata anche una scelta voluta per evitare di contrarre ulteriori mutui e quindi appesantire le casse e quindi il bilancio comunale dall'altro lato proprio perché lo Stato, che è uno Stato che sempre più si accanisce nei confronti dei piccoli comuni ha abbassato la soglia della capacità di indebitamento dei comuni e quindi non permette più di contrarre questi mutui con i comuni che abbiano una capacità di indebitamento superiore all'8% quindi quasi tutti abbiamo in questa zona, per quanto mi riguarda ma ti so per averlo appreso anche da altri sindaci, quasi tutti i comuni hanno già superato questa soglia dell'8% noi l'abbiamo ereditata purtroppo una soglia superiore da chi ci ha preceduto nel quinquennio antecedente alla mia precedente amministrazione e quindi adesso attendiamo solo che i progetti verranno finanziati a totale carico dell'ente erogatore del finanziamento e tutto ciò significa che non ci saranno oneri a carico delle casse comunali Suppongo che sia ancora presto, però già ha in mente qualche cosa a livello di nominativi per la Giunta? Allora è ancora presto, adesso in questi giorni ci riuniremo io di una cosa sono certa e questo i ragazzi e gli altri membri della nuova amministrazione già lo sanno non voglio imporre nulla a nessuno, visto che ognuno di loro è portatore di una specifica competenza voglio che siano loro a decidere quali saranno i nuovi membri della Giunta quali saranno poi le singole deleghe che verranno affidate perché questa è una novità di cui sono veramente portatrice e credo in maniera innovativa anche rispetto agli altri comuni io voglio che ognuno dei membri del Consiglio, del gruppo ovviamente di maggioranza ottenga da me una delega specifica in ogni singolo settore e che quindi ognuno di loro si impegni attivamente a seguire quella specifica attività per poi tutti insieme confrontarsi e portare avanti le attività dell'amministrazione comunale in un confronto ovviamente più ampio e più articolato però voglio che ognuno di loro segua in maniera precisa uno specifico settore e quindi voglio altresì che siano loro stessi a farmi i nominativi di coloro che vorranno far parte della Giunta comunale in modo tale da non assegnare ad esempio deleghe che non siano quelle specifiche per le quali magari ognuno di loro pensa di impegnarsi e che quindi ci sia questa giusta corrispondenza tra quello che loro si sentono di fare quello in cui loro si sentono più preparati, più esperti, più desiderosi diciamo così e quello che io andrò ovviamente ad affidare loro so per certo però che si tratta di una squadra veramente interessata veramente pronta ad affrontare questa attività amministrativa perché i ragazzi, specialmente i nuovi, sono veramente molto entusiasti e questo loro entusiasmo farà la differenza Per chiudere da una squadra all'altra vogliamo rivolgere un pensiero anche all'altra lista perché sappiamo che nei paesi quando arriva il momento della competizione elettorale si inaspriscono un po' gli animi, si vanno anche a rovinare delle amicizie quindi forse è meglio calmare un po' gli animi e collaborare tutti insieme per il bene del paese o no? Questo è quello che ci auguriamo L'esperienza ci insegna che la volta scorsa, la precedente amministrazione siamo stati oggetto di azioni giudiziarie in numero spropositato senza per l'altra lista ottenere alcunché perché alla fine ovviamente non hanno ottenuto nulla rispetto a tutto quanto quello che hanno messo in azione e questa volta invece noi per l'ennesima volta perché comunque le persone dell'altra lista si sono ricandidate anche questa volta io spero soltanto che il buonsenso questa volta suggerisca loro di avere un atteggiamento diverso perché tanto il rancore e l'odio non servono a nulla noi siamo qui pronti a collaborare e speriamo veramente che ci sia collaborazione anche da parte loro quindi non vogliamo un gruppo di minoranza che sia di opposizione e bassa io mi aspetto un gruppo di minoranza che sia collaborativo ma non per far piacere a me perché questo sarebbe l'unico modo possibile per lavorare tutti insieme nell'unico interesse che è il bene comune e che è il bene della nostra collettività grazie a tutti